Ben trovati e venuto in redazione presso Cilento Channel il consigliere di opposizione Agostino Abbatte, dopo un po' di tempo che non lo sentivamo, è riuscito a bloccare quelli che sono i lavori dell'isola ecologica in località Mattine ad Agropoli. Ma sentiamo direttamente dalla sua voce, come è andato l'iter, sembra che la provincia di Salerno abbia richiesto una documentazione al comune di Agropoli che non è mai arrivata e quindi diciamo che la proposta in consiglio comunale di avviare i lavori per ora è bloccata. Sì, io nell'ultimo consiglio comunale, se non vado errato, del 21 ottobre di quest'anno ho fatto opposizione alla delibera di riapprovazione del progetto esecutivo dell'isola ecologica in località Malagenia, adducendo tutte le motivazioni che avevo sempre addotto fino ad allora perché ci erano avute altre tre approvazioni tra progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. Adesso quindi questo che costituiva variante al programma di fabbricazione vigente era opponibile allo stesso modo. Mi sono opposto allo stesso modo e ho fatto un elenco lungo di discrasie che si verificavano in quella delibera dove veniva invocato un silenzio assenso per far sì che la variante venisse di plano poi approvata dalla provincia. Non fui ascoltato, fui deriso come al solito, dico fui deriso perché lo dico con convinzione, in fondo in realtà la maggioranza lavorava sempre in modo sicuro, dicendo vabbè dici tutto quello che vuoi tanto alla fine qui alzeremo la mano in tanti e di fatti così fu. Tornato a casa non mi sono rassegnato e ho scritto alla provincia, ho scritto alla provincia e ho spiegato le motivazioni della mia opposizione a quella delibera. Le motivazioni erano nel fatto che non poteva sussistere il silenzio assenso per tanti motivi oltre a quelle altre opposizioni. L'altro giorno, l'8 novembre, se non vado errato, mi è arrivata una PEC indirizzata a me e al sindaco di Agropoli in cui la provincia rileva tutte quelle discrasie che io avevo rilevato in fase consigliare e blocca quindi quella delibera dicendo che il silenzio assenso non è invocabile. Però vi è di più, in questa lettera della provincia si capisce in modo chiaro e preciso che io avevo fatto anche un'opposizione dicendo che questa isola ecologica, questa collocazione, questo sito costituiva variante anche al PUC, cosa che loro invece avevano sempre negato. Ebbene la provincia ne ha preso atto e ha detto guardate che se costituisce anche variante al PUC provvedete di conseguenza. Adesso quindi sto qui ad aspettare praticamente queste innovazioni introdotte dalla provincia. Però colgo l'occasione per fare una lamentela, una lamentela che vale in generale ma vale in particolare anche per l'isola ecologica. Cioè quando un consigliere fa un'opposizione e poi non se la vede diciamo accolta tantomeno addirittura nei meandri dei loro pensieri, fa ricorso al TAR con soldi propri addirittura. Non è il caso dell'isola ecologica perché l'ha fatto praticamente un confinante proprietario aiutato da un comitato. Ma io avrei dovuto fare opposizione per fare varie ragioni del mio diritto. Ebbene il TAR non fa altro praticamente che sorvolare e non concedere la sospensiva per poi entrare nel merito da qui a dieci anni molto probabilmente. Fortunatamente la provincia invece è intervenuta e ha negato tutto ciò che il TAR in fondo non aveva riconosciuto. Dicendo guardate vi blocco perché praticamente le delibere non sono a posto. Cosa che avrebbe dovuto fare il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale. Ma sappiamo benissimo che i Tribunali Amministrativi Regionali, non ho vergogna a dirlo, sono politicizzati e di conseguenza le sentenze sono sentenze più politiche che di diritto.